Sono Carlo Colombo. Questo progetto, soprattutto il divano, è un progetto cui io tengo molto perché è stata una sfida e abbiamo cercato proprio di valorizzare quello che è il DNA di Giorgetti, cioè le decorazioni, le cuciture, le forme e l'aggregazione geometrica di questi, chiamiamole isole, permettono di creare un divano completamente alternativo, legato al mondo del retail e del mondo dell'hospitality. Il progetto delle sedute è un'influenza prettamente asiatica, proprio questa ispirazione di questi segni verticali, come se fossero dei piccoli pilastri che sostengono una parte imbottita, quindi una parte rigida e una parte imbottita. Il rapporto che ho con gli oggetti ma anche con l'architettura è un rapporto di continuità e di crescita, nel senso che viaggiando molto e avendo una visione molto aperta verso l'aspetto anche culturale del progetto, cerco sempre di assorbire energia positiva e confrontarmi anche con gli altri. Io sono sempre stato un uomo d'azienda perché cerco di interpretare quelle che sono le esigenze e le traduco poi nei miei segni che appartengono alla mia cultura, al mio modo di essere, al mio modo di vestirmi, al mio modo di camminare, di disegnare, di pensare. Il mio modo di vedere l'interior o l'architettura è qualcosa che mi deve a pagare. Ho bisogno comunque di essere in uno spazio come questo, questo è uno spazio meraviglioso, austero, di grande eleganza e sofisticazione. L'amore per l'arte, la passione delle automobili e nel mondo dell'orologeria. Vizio che lavoro troppo, vorrei riposarmi un po' ma non ce la faccio perché il lavoro per me non è un lavoro ma una passione.